Dalle Marche parte un modello di cura che diventerà di riferimento a livello nazionale, essendo il primo in Italia a prevedere l'inserimento delle cure osteopatiche per i bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia di Torrette di Ancona. Il progetto, denominato Un Alleato in Corsia, è stato presentato ad Ancona, Palazzo delle Marche, ed è il risultato di un gran lavoro di squadra che ha visto, anzitutto, la tenacia dell'associazione Un Battito di Ali Ollus e del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici Torrette. Da ottobre 2020 è possibile far trattare i bambini subito dalla seconda a terza giornata post-operatoria all'interno del nostro reparto. Quindi per noi è stato un traguardo importante perché fin da subito i bambini possono essere trattati appunto dal fisioterapista osteopata e possiamo riscontrare diversi benefici. L'importante è anche comunicare che cosa fate e perché magari chi si trova davanti a delle problematiche possa avere delle risposte. Sì, assolutamente. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione soprattutto dell'imprenditore pesarese Alvaro Boscarini che si è da subito appassionato a questo progetto e che grazie al suo sostegno ha sostenuto l'intero anno di sperimentazione tra virgolette che abbiamo effettuato dal 2019 al 2020. Quindi per noi è stato, il suo aiuto è stato veramente importante perché ha creduto in noi e quindi in questo progetto. Evidente che questo progetto apre le porte ad altre sperimentazioni analoghe in altre regioni e in altre strutture ospedaliere ma che ha avuto un iter tutt'altro che semplice o scontato e c'è voluta la volontà politica in questo caso della consigliera regionale di Fratelli d'Italia Elena Leonardi affinché si arrivasse a festeggiare questo traguardo. Leonardi, la regione come entra in questa progettualità? Qual è stato anche un po' il percorso? Il percorso è partito proprio da una proposta di legge della scorsa legislatura che avevo introdotto all'interno di una legge omnibus supportata da tutta la commissione, devo dire ho trovato l'appoggio nella proposta di poter consentire dei progetti sperimentali di osteopatia all'interno delle nostre realtà ospedaliere. Questa proposta che è stata anche approvata ovviamente dal consiglio regionale è stata impugnata però dal governo. Ci siamo opposti, devo dire che nella trattazione precedente all'impugnativa avevo fermamente deciso di non adeguarmi alle prescrizioni che ci imponeva lo Stato perché sarebbe voluto dire non far partire il progetto, credevo fermamente che le buone ragioni della proposta fossero dimostrabili e così è stato perché la Corte Costituzionale ha dato ragione alla proposta di legge ed ha consentito, quindi ha reputato insomma non motivate le motivazioni dell'impugnativa e quindi ha consentito quello che poi insomma questo comitato, questi genitori che stanno lavorando insomma per il benessere di questi bambini si sta traducendo in realtà. Devo dire che il percorso nasce anche da prima perché questo progetto era stato già applicato e sperimentato fuori dal reparto con ottimi risultati sul trattamento di bambini, spesso sono neonati per cui è anche difficile approcciarsi per quelle che sono le difficoltà di interventi con un'apertura dello sterno che hanno diciamo una invasività molto importante e questi genitori dalla sperimentazione avevano proprio visto una serie di benefici molto molto importanti relativamente alla ripresa delle funzioni ad esempio del sonno, dell'alimentazione che hanno e fanno ben sperare ovviamente perché possano essere queste procedure di grande aiuto al benessere di questi bambini. A livello medico sanitario gli obiettivi che si possono raggiungere inserendo questi trattamenti sperimentali sono molteplici e supportati da una base scientifica di partenza e da uno studio pilota. Per favorire la ripresa del paziente, sia esso pediatrico o addirittura neonato, nella fase post-operatoria con l'introduzione del nuovo progetto, i bambini operati al cuore potranno accedere alle prestazioni degli osteopati non dopo la dimissione dall'ospedale ma direttamente all'interno del reparto con un notevole risparmio di tempo, di energie per le famiglie e migliori possibilità di recupero nel post-operatorio. Sentiamo il direttore del centro di cardiochirurgia pediatrica e congenita degli ospedali riuniti di Ancona, dottor Marco Pozzi. Noi abbiamo un programma medico che cerca di prendersi cura di tutti gli aspetti specifici, sia cardiaci che degli altri organi, ma sappiamo benissimo che un bimbo è tante cose e che vanno anche oltre il proprio cuore e ci sono degli aspetti che spesso sono sottovalutati, quindi per esempio la ripresa dei tessuti molli, la capacità di reagire dopo l'intervento e abbiamo visto per esperienze pratiche che questo tipo di trattamento dà una marcia in più, cioè riesce ad andare a trattare alcuni aspetti collaterali dell'intervento chirurgico che normalmente sono tralasciati e che causano alle volte un po' un rallentamento nella ripresa. Ecco, con l'introduzione di questo tipo di trattamento riusciamo a migliorare e anche ad accelerare la ripresa nel post-operatorio. Il progetto si inserisce nella filosofia che è alla base di ogni azione del reparto di cardiochirurgia pediatrica, guardare al bambino nella sua totalità, non solo al cuore e al problema, ma in tutti gli aspetti che possono concorrere al suo benessere. Sì, diciamo che più che non essere pensato è che questo tipo di trattamento, il trattamento osteopatico, è una cosa che si è diffusa in tempi più recenti e l'abbiamo sperimentata già su diversi bambini all'inizio e questo è stato il motivo per volerla poi estendere a tutti i bambini che passano nel nostro trattamento. In realtà adesso parte ufficialmente nel reparto, in ospedale, ma già da un anno si usava come trattamento alternativo fuori dall'ospedale, sempre sopportato dal comitato dei genitori, ma non potendo entrare si offriva fuori dall'ospedale e questo ci ha permesso già di accomunare l'esperienza su molti bambini e quindi a questo punto sappiamo che sarà un beneficio sicuro e non più un discorso sperimentale da valutare. Bambino o paziente che viene preso in cura da più professionisti, quindi collaborerete in team? Esattamente, nel nostro reparto noi riceviamo pazienti che vanno dall'età neonatale fino a qualunque età perché trattiamo sia la patologia pediatrica che la patologia congenita e quindi purché sia congenita a qualunque età e abbiamo visto che il trattamento è efficace a qualunque età, compresi anche i prematuri per quanto possa sembrare strano, ma esiste già una notevole esperienza anche su quella. E poi il lavoro è sempre comunque un lavoro di team perché ci sono diversi componenti che intervengono in questo tipo di trattamento. certi chirurghi, ma i cardiologi, gli anestesisti, gli intensivisti, gli specialisti di tante altre specialità che collaborano con noi. E l'essenza del nostro reparto è proprio quella di collaborare con tutti gli specialisti per poter offrire ciascuno il meglio della propria esperienza e dare un trattamento globale che sia il più completo e più efficace possibile. Soddisfazione è stata espressa anche da parte dello staff di osteopati presente alla conferenza, Adriano Zenobi e Alessandro D'Antonio, che hanno evidenziato come trattamenti dolci, specie per i pazienti più piccoli, possano dare grandi risultati. Grazie a tutti! Grazie a tutti!